L'aeroporto, lo dico dalle stanze del Consiglio regionale, è da cinque anni che è decisione politica presa, assunta, da quando nel febbraio del 2012 fu presentato quel PIT, quel piano di indirizzo territoriale, che prevede come, da un punto di vista ecologico, ambientale, strutturale, per la valorizzazione dell'economia e del turismo, non può che essere una pista di 2.400 metri parallela all'autostrada, che modifica un po' l'assetto dell'attuale sito aeroportuale, ma dà garanzie di ambiente e di sviluppo da un punto di vista economico e turistico. Io ritengo che finora tutto questo è stato imbrigliato in inaccettabili laccioli burocratici, e ci hanno messo del suo anche comitati o amministrazioni comunali, fra virgolette, a mio giudizio, poco illuminate. Ma non voglio fare polemiche, voglio dire che stamani è stato giusto che le associazioni industriali, la CNA, si mobilitassero per sollecitare quello che è un bivio a cui si trova di fronte il nostro territorio. Se vogliamo lavoro, sviluppo, se vogliamo infrastrutture all'altezza di ciò che oggi è Firenze in generale, di ciò che è la Toscana, questo progetto che cinque anni fa fu presentato per la prima volta dal Presidente Rossi e dalla sua Giunta deve finalmente trovare concretizzazione nei cantieri. È incoraggiante che si sia stamani rassicurato da parte delle autorità nazionali competenti, perché ormai quello che dovevamo fare come amministrazioni comunali e regionali abbiamo fatto, dalle autorità nazionali che arriveranno quelle valutazioni di impatto sia ambientale che salutistico che possano far partire i lavori e a questo punto non c'è da attendere che la posa della prima pietra.